Ha visto tutto il filmato, Grillo ha detto mi dicono che sono come Hitler, mi dicono che sono come Hitler, mi dicono che sono come Hitler, io sono oltre Hitler, ecco questo pezzo l'ho fatto per Reter 4 e per i giornali di domani, fa voi i fatti, voglio dire, con mosse come queste avete regalato milioni di voti al Partito Democratico. Con mosse come queste avete regalato milioni di voti al Partito Democratico, in due anni, dopo un anno e mezzo abbiamo fatto il 21%, ma per favore, mi auguravo che il PD vi battesse, perché quella sera, quando ho sentito Grillo, perché noi non trattiamo con i condannati per evasione fiscale, noi non trattiamo con queste persone, Voi avete terrorizzato la gente, certo, perché la gente si terrorizza quando c'è un evasore fiscale, dato lascia perdere l'evasione fiscale, anche qualcun altro prendeva i soldi in nero. Non lascia prendere e perdere proprio niente, non solo, anche i regioni, abbiamo visto che la classe dirigente, i 22, voi avete regalato la vittoria al PD, voi siete i principali responsabili di questo risultato del PD, perché anche tanta gente di Forza Italia, pur che non vinciate voi, ha dato il voto al Partito Democratico. No, perché con loro si possono fare corruzione, tangenti, c'è qualcosa, no, perché hanno preso paura, hanno preso paura delle puttanate che il vostro leader diceva, questa è la verità, ha preso paura delle puttanate. Il vostro leader non poteva dirle perché hai gabbio, non so cosa è peggio. Che gabbia, che gabbia, è stato condannato per una sentenza rispetto alla quale abbiamo fatto ricorso alla Corte Europea, è una sentenza uguale, è sempre una sentenza. Matti